Un fondo da 600.000 euro andrà in assistenza alle famiglie, ai cosiddetti caregiver che assistono figli minori affetti da malattie rare che comportano una condizione di disabilità gravissima, con necessità di elevata assistenza nelle 24 ore. Il provvedimento prevede l'assegnazione di un contributo economico concedibile a ciascun nucleo familiare pari a 10.000 euro in favore del genitore che si dedica in maniera continuativa e risulta essere disoccupato o inoccupato. L'erogazione del contributo a favore dei beneficiari è stabilita in due soluzioni, il 70% dell'importo a conclusione delle procedure di ammissione, il restante 30% a seguito di relazione semestrale da parte del servizio sociale competente che confermi il mantenimento dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio. Andrea Sciarretta dell'associazione Progetto Noemi Onlus esprime la sua soddisfazione per questo contributo che andrà a dare sollievo a circa 60 famiglie. È un contributo economico che deriva dall'impulso dell'associazione Progetto Noemi Onlus ed è un bando che è finanziato ormai dalla prima volta, fu il 2015, allora si riuscì ad aiutare solo 10 famiglie. Ad oggi la Regione Abruzzo finanzierà il bando per 600 mila euro, quindi ci saranno 60 famiglie che beneficeranno di questo contributo ed ha una doppia valenza ovviamente, perché oggi a livello nazionale non esiste alcuna tutela per l'assistenza familiare, anche purtroppo in era Covid. La domanda è d'obbligo visto che si preannuncia nuovamente un lockdown, zona rossa per l'Abruzzo. Come state vivendo questo periodo? Sì, ovviamente la notizia ha destabilizzato, ha preoccupato molto le famiglie che ci sollecitano. La paura più grande è che vengono chiusi anche i centri di riabilitazione, quindi adesso ovviamente non è chiaro dove si va ad intervenire, però c'è questa preoccupazione. In più anche riguardo ovviamente la gestione del proprio figlio in didattica a distanza, perché purtroppo i congedi esistenti, il congedo Covid, il congedo parentale, il caregiver familiare non può accedervi. Noi genitori, se dovessimo risultare positivi, ovviamente come lo gestiamo l'isolamento? Noi gestiamo comunque la patologia, la disabilità gravissima e abbiamo nelle nostre mani il respiro, il sorriso, la vita dei nostri figli.